Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotes. Ho creato una nuova poesia dal titolo La protezione dei santi, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. La preghiera verso i santi è un qualcosa di grandioso, alto, sublime, che ci trasporta verso la divinità, ci fa avvicinare a Dio e ci fa chiedere a persone eccelse un favore. Di umiltà grandiosa, quello di avvicinarci a loro. Quindi la protezione dei santi è potente, ci aiuta a trovare quella forma giusta di bellezza nella verità e nella fedeltà verso l'onipotente. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo La protezione dei santi. Pregare i santi che intercedono e donano alle nostre vite i miracoli e i favori che rivelano la santità loro di fede solenne. La protezione dei santi è potente, ci aiuta a trovare la forma giusta per una vita vera e fedele che ci offre una tonalità autentica. La protezione dei santi aumenta, la nostra fede è grandiosa e tanta lode al cielo porta a causa di una vita portentosa. La protezione dei santi è unica, ti solleva da ogni negativa presenza, si rivela degna e fantastica ed è ricca di amabile essenza. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.